Cari amici di WebamTV, la mostra Picasso Metamorfosi ci fa partire dall'antica Roma e qui vediamo una scultura di un pastore per poi arrivare alla versione di Picasso. Eccola qua. E quindi la metamorfosi, il passaggio dall'arte antica all'arte moderna all'anziano pittore che riprende il discorso dell'arte classica e dipinge la sua idea di pastore.